Voglia di fioriture in mesi invernali, la reginetta è la nostra primolina, primolina con cui abbiamo fatto una ciotola, ho appoggiato solo i vasetti per rappresentarli e per farvi vedere come può stare bene con una ciotola liscia Garden Italia in rotazionale, color impruneta e bella piena, bella ricca. Cosa fare quando avete trapiantato le vostre primoline? Importante è non fargli mancare l'acqua perché è una piantina che beve spesso e soprattutto vedete che ci sono le foglie basali, diventeranno sempre un po' gialline, quindi con pollice indice staccarle. Se voi la pulite, dico una volta alla settimana almeno, la piantina vi ringrazierà perché dal centro dei loro fiorellini vedete che ci sono i boccioli, quindi se puliamo bene le foglie non ci sarà il marciume del bocciolino e la pianta starà meglio e avrà una fioritura anche abbastanza lunghina finché non ci sono i primi caldi. Per cui primulina nella ciotola liscia, bagnarla, se volete un goccino di fertilizzante e godete di colori.